E buonasera ragazzi e ragazzi ben ritornati qua con This is the Lash ragazzi Oggi siamo qua con la recensione di un'applicazione veramente stupenda Ma ragazzi sono veramente molto, ma molto, ma molto contento di essere tornato a fare recensioni sulle applicazioni Android Ragazzi oggi siamo qua con un argomento veramente molto importante Come è quello di poter mettere skin, texture, server, mod e tutto ciò che volete in Minecraft Pocket Edition Con una sola fottutissima applicazione Allora ragazzi prima di cominciare faccio una piccola parentesi È un'applicazione gratuita chiamata utk.io Per funzionare però ragazzi avrete bisogno di due applicazioni Avrete bisogno di Minecraft Pocket Edition Ovviamente è Block Launcher Che è un launcher che serve per fare una patch a Minecraft Pocket Edition Detto questo, 3, 2, 1, boom Entriamo in questa applicazione e vi spiegherò bene come si fa Come ci si organizza in questa applicazione First thing, prima cosa ragazzi Come tornare questa quella home Dove avremo la possibilità di ricevere Hearn Diamond che serviranno per avere dei crediti maggiori Per quanto riguarda i download e gli upload E poi avremo questi 6 blocchi Che saranno scritto Maps, Seed, Skins, Mods, Server, Texture Pack Allora ragazzi vi dico subito una cosa molto ma molto importante Ogni cosa che voi downloaderete Non ci sarà bisogno di andare su nessun browser Su nessun gestione file Perché verrà tutto messo automaticamente nella cartella di Minecraft PE Poi ci saranno anche altre due cose che si chiamano Tools Che sarebbero queste due programmi Che si chiamano Screen, Skin Creator e Texture Pack Creator Se volete dei tutorial basta che mi scrivete nei commenti come funziona Ma serve uno per fare le skin e uno serve per fare le texture pack Veramente cose molto importanti Comunque se noi vorremmo provare ad installare una mappa Sarà molto facile e molto veloce Andiamo su mappe, clicchiamo su mappe E ci verranno fuori determinati cataloghi Ci saranno i tags, i followings, future, top news, top trending, local maps e basta Queste mappe saranno ovviamente come un'anteprima di una foto anche abbastanza stupida a certe volte E avranno ogni mappa Ci sarà scritto i download La quantità di like e la quantità di views Se noi andiamo per esempio a trovare questa applicazione qua che si chiama Item Review Official Noi clicchiando sopra Entriamo in questa pagina dove c'è scritto Come vedete, l'arrivo, questo 100% Che vuol dire che questa mappa è stata completata al 100% Ovviamente le persone possono mettere su questo programma anche mappe non finite Ci sarà scritto nella descrizione E ci saranno tutti i commenti che vorrete Vorrete capire se fa cagare o è bella Boom, avete tutto ciò che vi serve qua Alla fine dovete andare alla fine di questo bellissimo Questa pagina E cliccare su download This map where you can review your item If you are using a brand new texture pack Ok, quando facciamo questa cosa qua cosa succederà? Noi dobbiamo cliccare download E ce li faccio vedere in diretta E avremo ovviamente Dai Cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto Va, basta, ho fatto il cacchio Ragazzi, scusate, da un attimo aspettare la pubblicità Dobbiamo aspettare questa pubblicità che se ne vada a fa E poi possiamo andare avanti a vedere questa bellissima pagina Tanto per favore smetti, smetti Cazzo di schifu, schifu Ok ragazzi è andata via E adesso quando avremo finito di downloadare questa mappa Ci sarà scritto open block launch Adesso io non lo apro perché non c'ho voglia Ma appena entrate in block launch Andate su play E verranno fuori le mappe Nella posizione delle mappe Poi la stessa identica roba Serve per quanto riguarda le seed Le skin I server I mod Voi dovete downloadarle O dovrete trovare i seed E inserirli voi a mano E poi entrando con block launch Tranquillamente si potrà fare tutto ciò Che volete La cosa più importante di questo bellissimo programma E' quello che potreste farvi un profilo Un profilo di UTK Dove vi consentirà di fare questo profilo Dove potete tranquillamente fare upload e download Voi andate su view all upload Che servono tutte le cose che ho Possiamo dire fatto io Map io non ho fatto niente Mode non ho fatto niente Seed non ho fatto niente Serve non ce ne ho Vado su skin Su skin Io ho fatto una cosa Ho fatto la mia skin DJ Slash Voi potete tranquillamente Entrare E potete fare il download Detto questo ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo di arrivare a 6 like Per il prossimo episodio Se vi potrà interessare E ditemi nei commenti Che applicazione Vorrete che recensisca Se no troverò io una Detto questo ragazzi Un mi piace Un commento Iscrivetevi al mio canale Se non siete ricordati Iscrivetevi al mio precedente video Che non so ne più Da qua è tutto DJ Slash Bella ragazzi